se parte ok tanto come la vecchia di saturn era tutta una cacciara ciao ragazzi bentornati di nuovo in questo video oggi tanto avete visto come l'impostazione siamo con francesco quindi significa cosa significa mazzo de merda mazzo de merda è vero mazzo meme però questo mazzo di merda costa almeno 400 euro non vorrei dire costa così tanto i ferris i ferris 60 unicorn 30 costa un po diciamo non è per tutti non è un mazzo budget anzi proprio spoiler non fatelo a casa cioè non montate queste liste cioè praticamente questa è una versione depotenziale portate a cena la ragazza cioè drogatevi non non giocatele toon cashtira no ma nel pratico questa è una versione depotenziata di cashtira è una versione più divertente io la chiamo non depotenziata ok però prima di tutto vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati a magic corner quindi se volete supportarmi tanto a meno me danno un euro lo faccio per loro trovate il link del loro store qua sotto in descrizione in più se volete invece supportarmi e volete liberarvi delle vostre carte di yugi magic pokemon digimon one piece e chi più ne ha più ne metta calciatori panini quelle nuove con la firma quelle a vecchene trovate il link del mio instagram qua sotto in descrizione scrivetemi mandatemi le foto e nel caso se ne parla in più trovare le foto dei piedi dei piedi qua sotto in descrizione trovate anche il link di twitch se volete supportarmi anche se non vi sabato adesso dico a te che stai guardando questo video follow one in più così tanto per per dirle tutte niente non sono dimenticato ah si parte cazzo iscrivetevi cazzo iscrivetevi se non avete già fatto test di cazzo c'è il 70% di voi che non è iscritto ma da classica intro da youtuber adesso qui ci sarà in sovraimpressione la statistica al 70% di voi non è iscritto la campanella iscrivetevi dai ti lascio via magia dell'editing taglio allora abbiamo già visto questa lista un po' di tempo fa ma questa volta è molto meglio oddio si è molto è molto meglio c'è una piccola cosa su cui ero indeciso ma lo scopriremo più avanti ed è una piccolezza cambia giusto quei quanto costa prosperity? cambia giusto quei 100-150 euro però partiamo allora parto ho diviso ok questa è solo roba toon quindi carrellata di roba toon che già abbiamo visto quindi rapidamente tre di questi banna targettando purtroppo e attacca subito diretto tre maghi neri ti fa evoca special e ti cerca magia toon scartando toon due draghi neri abbastanza perché ce lo cerchiamo di questa ripeto vado molto veloce perché abbiamo già visto ok ma perché gioco toon cashtira o cashtira o come lo volete chiamare perché sono noi giochiamo tanti posso dare la motivazione? si perché giocando con i tierlaments costa troppo perché no beh perché io volevo giocare toon e toon sono livelli 7 e quindi anche la magia continua ci darà un valido aiuto per evocare livelli 7 fare i nostri xyz link insomma ci gasiamo è divertente poi altri mostri toon questa volta non come nell'altra lista giochiamo due arpie e una sirena perché sono facili entrano facili e ho dovuto ridurre un po' di carte toon come adesso la trovo e quindi queste tre ci aiutano per fare xyz tipo dweller, bagusca, roba insomma che fa piacere da ve e contro quindi questa roba toon ecco dove era l'altra roba toon perfetto poi magie toon vabbè foglio illustrativo toon tutti la conosciamo ci cerca tutto e non è once per turn questa ci cerca tutto ed è once per turn e ci cerca anche mano dei fumetti e ci previene la distruzione di regno toon quindi molto molto forte regno toon che ci previene la distruzione dei mostri toon carta incredibile mono terraforming perché la konami vuole così giustamente se le terreno troppo idiote che hanno stampato necrovalle, mondo zombie, mina se puoi scegliere mina quella dei tierlamets che fa il caffè a momenti poi altre carte toon non meno importanti gira pagina l'ho cattata a due perché a tre prima anche se era un po' pesante giocando tanti livelli sette riuscivi soprattutto col reparto cash tira adesso non è sempre detto magari di vedere mondo toon e quindi ho deciso di metterla a due perché sì e poi mono mano dei fumetti perché? carta più forte del mazzo perché chiaramente è un brick assoluto se lo peschi e non lo cerchi e se hai se non hai mondo toon è letteralmente una carta inutile io giocatelo puro giocatelo puro però così si può giocare volendo poi riparto diciamo è un going second potete fa tutto in realtà vi potete gasare in ogni caso reparto carte staple e cash tira vabbè carta costosa una carta costosa gentilmente offerta dal buon cappello un solo unicorn e due magie quelle di cui parlavo prima che ci fanno evocare special i livelli sette e boh cioè niente da dire ce li stiamo tutti incontrando contro e non fanno non fanno piacere riparto come dicono gli youtuber incredibili consistenza ovviamente tre pot of prosperity sono indeciso tra lei e extravagance perché è bello vedere la carta che vuoi ma è bello anche avere un più due e considerando che l'unica carta di extra che ci interessa è il è lui se ne può giocare a tre e voglio dire se ce lo bannano pace in ogni caso abbiamo modo di fare di fare cose quindi non lo so per ora prosperity se non ce l'avete extravagance è variato un po' l'extra non è male going second card 2 e 2 perché se no come ci insegna il buon Mitch si bricca quindi 2 e 2 sempre io lo giocavo 3 e 3 e si bricca extra deck extra duck extra deck potrei dire una cosa cioè nel gioco 3 e 3 non le vedo io nel gioco 2 e 2 e le vedo è cari funziona è così sono i simulatori che scavete da crullere e averli insieme però lui perché lui come vi ricordate nel video precedente dicevo che questa si fa tipo vi fanno un imperma una veiler su il vostro uovo di drago nei rocchi rossi boom anima abbandonata tanto le persone ormai mettono i mostri a cazzo quindi sicuramente riuscite a rubare qualcosa poi vabbè link random scaletta per fare il nostro amico non è inutile spiegare che fanno glorio soldato nero che è forte perché appunto se usiamo livelli 7 o superiori per farlo guadagna i vari effetti che è bandire senza targettare guadagnare un secondo attacco vabbè è forte è carino giocatelo non costa nemmeno tanto è uscito la mamma a pollusa perché no come dicevo prima i due livelli 4 per fare dueller bagusca e sono gli unici due ran 4 che teniamo e gli unici due ran 4 che sono forti in realtà non ne giocherei altri poi due di queste perché tanto giocando prosperity voglio di non servire alla terza due drago metallico occhi fiamma come cazzo chi ha drago metallico fiamma occhi rossi forte vabbè io lo vedo so che lo devo fare fa mascherena lo sapete già è forte eh sì mascherade no mascherena mascherade 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 in realtà sono tutti poi i ranghi 7 un po' così cioè cosacco numero 89 e uno zeus perché giochiamo tanti xyz e perché non fare zeus ragazzi abbiamo scelto tipo 5 minuti per giocare nel senso secondo me metteteci il secondo zeus se giocate con extravagance sì cattate varia roba metteteci il secondo zeus metteteci il secondo de lui io metterei con il numero 11 perché è bello così per ride big guy e niente questa era la lista toon che ha lo stesso funzionamento dell'altra ma in più e nell'altro video spieghiamo come usarla ma in più chiaramente avendo roba cashtira che aiuta a fare giocate sbagliate contro l'avversario loccare le zone carino fammelo vedere fammelo loccami una zona con l'ixis e loccami una zona adesso va bene va bene speriamo che che non bricco poi vabbè chiaramente essendo una decklist toon cashtira non è essendoci tanta roba toon non è sempre detto chiaramente di loccare la zona perché già il fatto che ferrir cioè ferrir già fa tantissimo da solo aiuta in realtà ogni mazzo e poi vabbè essendo come detto primo livello 7 ci puoi fare rango 7 oh ma mi sa come è scolato male ok ok vabbè ragazzi ma che mano è cioè ma che mano è vogliamo vogliamo parlarne di questa mano cioè c'è tutto tutto allora poi in base se andate secondi o primi mamma mia vabbè lo facciamo esplodere vabbè ragazzi allora questa mano come a poker cioè se pescate una mano così l'avversario qualsiasi cosa c'ha voi scoprite la mano gli fate va bene che cosa vogliamo fare si mescola e si fa il secondo round ovviamente vabbè io direi sicuramente di baitare al più presto una negazione o qualcosa con questa quindi andare subito tanto non lo ti capiamo quindi non ci interessa in realtà la nostra battle ergo si va di questa scontrolarmi pari e se ce la negano bene baitiamo una negazione se non ce la negano meglio quindi questa è andata poi io direi di pescare subito con prosperity no quella extravagance extravagance lo devi fare all'inizio della main ricordiamolo potte lo puoi fare sempre ma come controindicazione l'avversario prende la metà dei danni ma in questo caso non ci interessa anzi prima di prosperity sicuramente attiverei foglio illustrativo per prendere segnali bruttoon che sicuramente fa da parino e quindi molto forte poi in base anche all'avversario tipo se l'avversario ha lasciato un solo mostro che era magari che ne so barone l'unica negazione che aveva anche qui senza cioè levando letteralmente tre carte tre carte forti banalmente questo e cerchiamo mano dei fumetti mano dei fumetti prendiamo barone passo volendo ma abbiamo lui che entra special e ci cerca l'altro ferrir lui gira pagina toon l'effetto non ve lo ricordate sicuramente perché non giocate questi mazzi meme ti fa dichiari tre mostri cioè tiri fuori tre mostri col nome diverso toon l'avversario ne sceglie uno coperto e lo evoca e lo evoco specialmente sul mio terreno e boh prosperity potenzialmente è qualsiasi carta cioè uno due tre quattro cinque sei le uniche queste sicuramente non le avrei prese sicuramente buon questo è forte come ho detto prima se non la prendevo prima buona mano è la prima volta che faccio un test su questo canale e viene una mano decente proprio incredibile mai successo su questa beh se tu partivi di Prosp al Davide Dark Ruler se c'era pieno di negazioni gli tiravi Dark Ruler Evely eh ma magari mi avrebbe negato Prosp eh no cioè sicuramente avrei fatto eh no prima avrei fatto Evely io preferisco che cioè preferisco vedere e attivare questa piuttosto che me levano questa perché ho modo di ribaltare la board con quello che ho e quindi vorrei vedere cioè vorrei attivare questa e questa se va bene se entra bene perché non voglio fare OTK solo per questo eh vabbè questa era una test end senza avversario ovviamente quindi e niente ragazzi questo video lo chiudo io vieni vieni e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate di questa lista penso che su youtube a parte noi c'è una fatta da un trucco di merda che non sa neanche giocare al mazzo che abbiamo scoperto prima di registrare cioè io il mazzo già l'avevo testato e provato e c'è un video di 13 giorni fa ci sta siamo un po' tristi per questo però nel senso dipende dal vostro supporto se c'è proviamo anche castira con i nuovi supporti castira puro io i soldi non li cago per castira puro non lo voglio né giocare mazzo vergognoso no vabbè ma lo sai cioè lo sanno io voglio giocare roba roba che mi diverte giocare sì sì ma il fatto è che lo finanzio io finché mi prende roba del merda mi basta poco per finanziarlo esatto detto questo ragazzi state mesi e noi ci vediamo lunedì sempre qua con un video a casa ciao a tutti